L'integrazione cardarelli cattolica stoppata dai ministeri, il progetto dell'ex presidente Frattura è stato fermato dai dicasteri dell'economia e salute, lo ha confermato durante la trasmissione Moby Dick, il governatore Toma. PD verso assemblea, Venitelli chiede unità, in vista della riunione il 16 annunciato ricorso per ottenere la rappresentanza femminile in giunta regionale, intanto Shandra capogruppo del partito al comune di Termoli è stromesso dalla maggioranza. Infermieri precari annunciano ricorso al Consiglio di Stato, dopo il ricetto del loro ricorso Altar per essere stabilizzati andranno avanti nella loro battaglia, rappresentati dagli avvocati Iacovino e Fiorini. La storia di Sernia in un museo multimediale è stato inaugurato al liceo classico della città, racconta l'evoluzione del capologo Pentru dalla preistoria alla globalizzazione. Mercoledì a Campobasso la festa Rosso-Blu. La società e l'associazione di tifosi si organizzano per l'iniziativa alla Selvabiana. Molise Cup domani a Trivento, la finale tra Castella di Sangro e Ripa Limosani. 14 e 2 minuti, buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità e dell'integrazione tra l'ospedale Cardarelli di Campobasso e la fondazione Giovanni Paolo II. Il progetto dell'ex presidente della regione Frattura è stato stoppato dai ministeri dell'economia e della salute. A darne conferma il governatore Touma è intervenuto ieri sera nella trasmissione Moby Dick, il servizio di Anna Maria Di Matteo. Salta l'integrazione tra fondazione Giovanni Paolo II e il Cardarelli. L'integrazione così come prospettata dall'ex governatore Frattura è stata stoppata dai ministeri competenti, vale a dire quelli dell'economia e della salute. L'ufficialità è arrivata dal presidente della regione Donato Toma, intervenuto alla trasmissione Moby Dick, andate in onda su Telemolise. Serve una governance pubblica, hanno fatto sapere dal governo centrale, dunque l'integrazione così come l'aveva pensata l'ex presidente della regione non può essere attuata. Ho preso atto di un parere che i ministeri hanno rilasciato, i ministeri competenti parlo della salute e del nostro ministero finanze, su una bozza di integrazione presentata dall'amministrazione precedente, integrazione con la fondazione Giovanni Paolo II. Parere, le dico in anteprima che è stato negativo, per cui bisogna ripartire con una proposta di una sanità unitaria e quindi c'è molto bene da fare. Ho già un'idea, tant'è che noi probabilmente l'idea di secondo livello sul territorio già ce l'abbiamo. Basterà di organizzare la sanità convenzionata della fondazione, la sanità pubblica, in maniera opportuna, in maniera più efficiente e a questo punto avremmo ottenuto lo stesso risultato. I ministeri hanno bocciato quella idea, poco conosciuta tra l'altro, ma che io in conferenza stampa poi dettaglierò meglio. Quella idea hanno bocciato, però l'idea di integrazione per una sanità più efficiente, per una sanità completa, è un'idea che accarezza anche me a dirla tutta, solo che io penso ad una sanità che sia basata su un consorzio ospedaliero, non su convenzioni tra pubblico e privato. Tranciante infine la risposta del governatore Toma alla domanda se il suo governo è in continuità o in discontinuità con la giunta precedente. Guardi, offendete il mio decoro personale, io non potrei essere altro che in discontinuità. Quale continuità? E adesso parliamo delle elezioni amministrative. Domani dalle 7 alle 23 si vota in 14 comuni molisani per rinnovare il Consiglio ed eleggere il Sindaco. Dieci i centri in provincia di Campobasso e quattro in quella di Isernia, dove i cittadini sono chiamati alle urne. I due comuni più grandi sono Venafro e Larino, non è previsto il ballottaggio. Telemolise seguirà in diretta lo spoglio non appena si concluderanno le operazioni di scrutinio, dalle 23 con collegamenti con Venafro e Larino. Le nostre truppe poi saranno sul territorio per intervistare i primi cittadini eletti negli altri comuni. Interviste che verranno mandate in onda durante la diretta. Un messaggio di unità e confronto in vista dell'Assemblea regionale del Partito Democratico in programma sabato prossimo a Campobasso. A lanciarlo la Presidente Laura Venitelli che ha annunciato anche un ricorso per ottenere la rappresentanza femminile nella giunta Toma e per impugnare l'attuale legge elettorale. Intanto acque agitate al comune di Termoli dove il cavo gruppo del PD Antonio Sciandra è stato estrumesso dalla maggioranza. Fabrizio Occhionero. Il Partito Democratico come unica forza di opposizione a livello nazionale ma anche regionale dove regna la pace silenziosa del Movimento 5 Stelle e si consolida l'asse con Roma dopo la formazione del nuovo governo. Così la Presidente dell'Assemblea regionale del PD Laura Venitelli ha delineato il quadro politico in vista dell'appuntamento di sabato 16 giugno a Campobasso, un'Assemblea ritenuta come la più importante per il futuro perché, ha osservato l'ex deputata, guardare indietro serve solo a verificare gli errori commessi e ad analizzare i dati rispetto alle aspettative deluse in una regione governata dal centro-sinistra. Da qui l'invito all'unità per un partito che, ha aggiunto Venitelli, fa della diversità una ragione di esistenza ma può però sviluppare un dibattito interno forte e fare sintesi sui territori. Un dibattito aperto, schietto ma soprattutto una ripartenza importante nell'insegna dell'unità. Una ripartenza da quell'Assemblea, una ripartenza per recuperare quelli che sono gli spazi che noi abbiamo lasciato ad altri. Con un'apertura, diciamo, ampia a 360 gradi a coloro i quali i riformisti che guardano ancora a questo partito. Intanto Laura Venitelli è pronta a seguire la strada dei ricorsi contro la giunta del neopresidente Donato Toma, priva di rappresentanze femminili e contro l'attuale legge elettorale. Una rappresentanza di genere, quindi una rappresentanza femminile necessaria per quella che è la diversità che si può dare dal punto di vista delle idee, della partecipazione, dell'impegno da parte appunto del genere femminile completamente stromesso da questa giunta e poi anche su quello che è, a mio modo di vedere, un aberrazio della sospensione temporanea degli assessori. Cioè l'assessore fa l'assessore, si sospende temporalmente, entra il consigliere che sta dietro, poi se l'assessore ritorna in consiglio, il consigliere che sta dietro ritorna a casa. Quindi è un vero e proprio consiglio che con questo sistema diventa un consiglio addomesticato a quelli che sono gli input del Presidente. E ci sono acque agitate al Comune di Termoli dove il capogruppo del PD, Antonio Sciandra, è stato estromesso dalla maggioranza del Sindaco Sbrocca. Reo, come ha spiegato, di non aver partecipato al consiglio che ha approvato il via definitivo al tunnel e di non essersi di fatto allineato. Vederla in un modo diverso al Comune di Termoli non è ben accettato questa posizione. Uno che la pensa in un modo diverso sul tunnel, per esempio, io avevo e ho intenzione, il tunnel per me è premesso che è una bella opera e ci tengo e ribadisco che sia sempre a favore. Però ho anche inteso aprire una discussione all'interno della maggioranza affinché si affrontasse la questione del referendum. Io sono a favore del referendum, io sono a favore della gente perché la gente deve essere comunque sentita nei momenti importanti. Per alcuni invece il fatto che non abbia votato la variante PRG è una questione altamente politica, secondo me di tradimento, ma secondo me non lo è. Ognuno deve avere la volontà di poter liberamente decidere su ogni questione. Cosa dice al Sindaco Sbrocca? Che non è più il mio Sindaco, non lo sarà mai più il mio Sindaco. In attesa dell'Assemblea per cui Sciandra ha auspicato una fase congressuale e degli sviluppi politici Consiglio Comunale a termoli chiude anche la sede del Partito Democratico perché diversi eletti non hanno versato le quote e sostenuto il mantenimento del locale di Via Monte Carlo. L'avviso di mobilità dell'azienda sanitaria regionale per gli infermieri che lavorano fuori regione è valido. A deciderlo è stato il TAR Molise che ha rigettato il ricorso degli infermieri precari che chiedevano di essere stabilizzati. Soddisfatto l'avvocato del Comitato infermieri Massimo Romano. Il TAR ha detto ha sposato le nostre ragioni. Sentiamo. Ci ha pensato il TAR Molise a mettere fine alla disputa che andava avanti da mesi tra il Comitato degli infermieri che lottano in cui si erano riuniti tutti gli infermieri che da anni prestano lavoro in ospedali fuori regione e che con una procedura di mobilità indetta dal laser ma avevano la possibilità di tornare in Molise e gli infermieri precari operanti in strutture regionali che chiedevano di essere stabilizzati. Tanto da presentare al TAR Molise un ricorso per far valere le loro ragioni bloccando di fatto il procedimento di mobilità. Il Tribunale amministrativo ha però dato ragione al Comitato degli infermieri che lottano sostenuti dal loro avvocato Massimo Romano. Il TAR ha recepito l'impostazione del nostro atto di intervento, tecnicamente si chiama atto di intervento ad opponendum, con il quale appunto i miei assistiti che hanno partecipato alle procedure per l'appunto per la mobilità perché sono già assunti e prestano la propria attività professionale presso ASD di regioni di fuori regione, chiedono per l'appunto di poter rientrare in Molise. Il TAR ha raccolto le deduzioni, le censure del nostro atto di intervento e quindi a questo punto insisteremo da subito nel sollecitare l'azienda sanitaria a completare il prima possibile queste procedure. Ora la strada sembra essersi finalmente spianata per questi infermieri che da tanti anni aspettano di poter tornare a lavorare a casa loro e Romano ha presentato una diffida all'ASREM. È un invito diffida a dar corso alle procedure che sono state probabilmente opportunamente interrotte proprio per effetto di questi ricorsi che il TAR ha inteso appunto respingere confermando la bontà dell'impostazione degli atti impugnati e della prospettazione dei miei assistiti e quindi rispetto a questo credo che ci sia un interesse senz'altro dei singoli intervenienti a poter conseguire il prima possibile l'inquadramento presso l'azienda sanitaria del Molise ma ci sia anche un interesse pubblico direi addirittura prevalente a che l'intero servizio sanitario regionale possa avvalersi di queste figure professionali delle quali credo che abbiamo un grande bisogno. Gli infermieri con contratto a termine e che aspettano di essere stabilizzati andranno avanti nella loro battaglia. I loro avvocati Iacovino e Fiorini infatti porteranno le loro ragioni al Consiglio di Stato dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Molise. La vicenda quindi che vede il blocco delle assunzioni degli infermieri negli ospedali è lungi dal dirsi conclusa. Marta Martino. Dopo la sentenza del TAR Molise che ha reggettato il ricorso gli infermieri precari operanti istruttori ospedali regionali che aspettavano di essere stabilizzati secondo il decreto Maddia hanno deciso di andare avanti. Gli avvocati Fiorini e Iacovino andranno in Consiglio di Stato. Unitamente all'avvocato Iacovino con il quale seguiamo da tempo la vertenza dei precari indubbiamente non molleremo la presa. Riteniamo che questi lavoratori che hanno mantenuto in piedi la sanità regionale non ce lo dimentichiamo in un periodo molto difficile meritino in qualche modo un riconoscimento per queste loro prestazioni che hanno sopperito a carenze di personale gravissime. Quindi sicuramente diciamo così abbiamo preso atto della sentenza del TAR, le sentenze si rispettano ma chiaramente non ne condividiamo i contenuti e quindi sicuramente andremo al Consiglio di Stato a portare avanti le ragioni del personale precario della sanità. L'ultima parola sulla vicenda che si trascina ormai da mesi non è arrivata ancora la parola fine. Tutto è iniziato quando l'ASREM, regioni e organizzazioni sindacali si sono accordati per assumere 140 infermieri attraverso mobilità volontaria e altri 140 con un concorso pubblico straordinario riservato ai precari, ossia la metà di quelli tuttora operativi negli ospedali con contratto a termine e da qui la decisione di ricorrere al TAR Molise. Avvocato, a suo avviso poteva essere gestita in maniera diversa tutta questa vicenda? Sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa. Diciamo che il TAR ha dato torto ai ricorrenti semplicemente su un presupposto. Non perché in base alla MADIA non ci fosse una precedenza per il personale da stabilizzare rispetto ai lavoratori della mobilità. Questo atto non è in discussione ma semplicemente perché trattavasi a dire del TAR e della ASREM di una vecchia procedura partita nel lontano 2016 e quindi sostanzialmente la normativa MADIA MADIA non sarebbe applicabile proprio in quanto di una vecchia procedura. Crediamo che la ASREM invece, quell'atto del 2016, avesse un unico scopo quello di consentire la proroga del personale precario. Sicuramente sedendosi intorno a un tavolo e facendo una seria ricognizione del personale e dei posti mancanti avrebbe potuto contemperare le esigenze sia del personale precario sia del personale da porre in mobilità. Il governatore Toma ha intervenuto sulle trattative in corso tra Roma e Bruxelles relative al posizionamento delle regioni in Europa. Sto seguendo costantemente il negoziato, in riferimento alla nostra regione, riguardo gli obiettivi di sviluppo in cui ci colloca l'Unione Europea. Lo scopo, ha detto Toma, è partecipare al meglio alla ripartizione delle risorse europee. Attualmente siamo collocati tra le regioni in transizione insieme all'Abruzzo e alla Sardegna e dunque beneficiamo di minori risorse rispetto a quelle regioni collocate nell'obiettivo 1. Il Molise, ha detto ancora il governatore, il negoziato con Bruxelles assumerà nei prossimi giorni un'importanza fondamentale affinché la regione intercetti i maggiori fondi europei. Nelle prossime settimane andrò a Bruxelles con i miei tecnici, ha concluso Toma, proprio per seguire più da vicino il posizionamento strategico del Molise. E' Carlo Fucci, 61 anni, sostituto procuratore di Santa Maria Capo a Vetere, il nuovo capo della procura di Isernia. Nominato all'unanimità dal CSM, prenderà il posto di Paolo Albano prossimo alla pensione. Fucci è abbastanza conosciuto a livello nazionale per la sua battaglia antica morra, per la contrarietà alla riforma Castelli e anche per un SMS ironico su Silvio Berlusconi. ci dice di più in questo servizio. Enzo Di Gaetano. Carlo Fucci, 61 anni, di Airola, in provincia di Benevento, il nuovo procuratore capo di Isernia. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio Superiore della Magistratura, indicando il PM di Santa Maria Capo a Vetere come il successore di Paolo Albano, prossimo ad andare in pensione. Fucci per oltre 30 anni è stato pubblico ministero e ha rivestito la carica sia di segretario generale che di vicepresidente dell'ANM. Vanta un curriculum di tutto rispetto, la sua carriera inizia a finire sui giornali dopo che arriva per primo sul luogo della strage di Camorra di Casa Penna, il 18 dicembre del 1988. È sempre lui che ha idea di creare due aule bunker nel nuovo carcere di Santa Maria Capo a Vetere. Sul finire degli anni 90 riesce a coinvolgere i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero nel progetto per le nuove aule destinate ai maxiprocessi, come quello arcinoto contro il clan dei Casalesi denominato Spartacus. Si occupa della tangentopoli casertana finendo per scontrarsi con il pool di mani pulite a Milano che voleva per sé l'inchiesta. Riesce a recuperare parte del denaro frutto della tangente alla Fiat in Svizzera, ma anche alle Bahamas. Nel 99 tiene alta l'attenzione sul tema in un tribunale di provincia, come mai nessuno prima. Da semplice PM, ma anche come presidente provinciale della NM, Fucci convince i colleghi ad una colletta per comprare una pagina di pubblicità sul quotidiano il mattino. Gli serviva spazio per denunciare che il suo tribunale, quello di Santa Maria Capo a Vetere, era sul punto di annegare tra le scartoffie. Nei primi anni 2000 finisce ancora sui giornali per la sua presa di posizione, durissima contro la riforma della giustizia dell'allora ministro leghista Castelli, accusato di voler fascistizzare la magistratura, con conseguente ridda di polemiche con la maggioranza di centrodestra. Poi nel 2005 protagonista di una nuova bufera mediatica, un SMS ironico sull'aggressione subita da Berlusconi, dopo che un giovane gli aveva tirato contro il treppiede della macchina fotografica. Il messaggio invitava a raccogliere fondi per ricombrare un cavalletto al giovane fotografo. Fucci si difese parlando di uno scherzo. Ora Carlo Fucci tocca un altro ruolo, quello di dirigere la procura di Sernia e lui il successore di Paolo Albano, che andrà in pensione entro settembre. Il Consiglio di Stato ha bloccato momentaneamente la discarica di rifiuti di Sarsinoro, a due passi dalla nostra regione. Ora si acceleri sulla perimetrazione del Parco Nazionale del Matese. La richiesta della rete dei comitati di tutela ambientale di Campania e Molise. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Il Consiglio di Stato ha per il momento bloccato la realizzazione di una discarica di rifiuti a Sarsinoro, centro della provincia di Benevento, a confine con il Molise. La rete delle associazioni e dei comitati di tutela ambientale di Campania e Molise è soddisfatta della sentenza che accoglie l'appello del comune di Sarsinoro, in sostanza ribalta quanto deciso dal TAR Campania. Per il momento dunque niente impianto per trattare rifiuti per 22.000 tonnellate all'anno alle falde del Matese, proprio sul fiume Tammaro, a due passi dalla nostra regione. La rete annuncia che non si fermerà e continuerà la mobilitazione fino a che non ci sarà la revoca in autotutela del decreto di autorizzazione emesso dalla regione Campania e fino a che non ci sarà la trattazione della controversia. Ora si acceleri sulla perimetrazione del Parco Nazionale del Matese e l'auspicio sempre della rete, così da scongiurare stravolgimento ambientale, devastazione paesaggistica e snaturamento della Valle del Tammaro e di una delle aree più belle e ricche dal punto di vista storico, archeologico e turistico del centro-sud Italia. Rimanendo in tema ambientale, domani ci sarà all'evento la piccola Grande Italia Lega Ambiente per i Piccoli Comuni. A Toro con il Comune e il Comitato San Mercurio alle 9.30 è stata organizzata un'escursione attraverso le vie dell'acqua riscoperte grazie agli studi sulle fontane del borgo che porterà i partecipanti dal Paese alla Piana dei Mulini, storica sede delle giornate di Voler Bene all'Italia. Qui ci sarà un incontro per discutere della legge sui piccoli comuni e sarà l'occasione per chiedere una pronta e concreta attuazione della legge 158 2017 perché sia possibile vedere ricadute reali e inversioni di tendenza che portino a un cambiamento di rotta al destino di spopolamento e impoverimento dei piccoli comuni ancora in atto in Italia. E qui l'appello di Lega Ambiente al Presidente della Repubblica, Mattarella, affinché si faccia portavoce con il Governo delle istanze del territorio, affinché si rispettino i tempi di attuazione dei decreti previsti dalla legge che nel documento di Economia e Finanza vengano previste più risorse fino a 100 milioni annui e non in un quinquennio. Le consigliere comunali Cancellario e Fassolino denunciano lo stato di degrado, di abbandono in cui si trovano molte zone di campo basso. Sono ormai quotidiane le segnalazioni da parte di cittadini, soprattutto residenti nelle zone periferiche della città, per segnalare lo stato di abbandono da parte dell'amministrazione riguardo la mancata o insufficiente manutenzione del verde pubblico comunale, soprattutto in riferimento allo sfalcio dell'erba. Un esempio per tutti, dicono, è la scuola materna di Via Crispi. Il mancato sfalcio dell'erba crea problemi di decoro urbano e crea anche problemi alla circolazione stradale, riducendo la visibilità in prossimità degli incroci stradali. Chiediamo con forza l'intervento dell'amministrazione che non può certo trovare giustificazione nel mancato rinnovo dei contratti con le associazioni, concludono Cancellario e Fasolino. Un impianto fotovoltaico nuovo, regolarmente collaudato, mai entrato in funzione. La situazione nella nuova scuola di Via Sant'Antonio dei Lazzari a Campobasso viene segnalata dal consigliere comunale Simone Cretella. Sono passati due anni scolastici, ha detto, di energia rinnovabile e quell'impianto avrebbe potuto produrne in grande quantità, sia per alimentare i consumi della stessa scuola, sia per reimmettere nella rete, beneficiando delle formule incentivanti e apportando anche discreti benefici economici alle casse comunali, senza considerare gli apporti in natura ambientale con la riduzione delle emissioni di CO2. L'amministrazione comunale ha concluso Cretella sia ad operi per attivare subito gli impianti, verificando le responsabilità del grave disservizio, anche per accertare eventuali danni erariali a discapito della collettività. E adesso andiamo al liceo classico di Isernia, dove è stato inaugurato un museo multimediale che racconta la storia della città, dalla preistoria alla globalizzazione. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. L'idea risultata vincente è stata quella di raccontare la grande storia di Sernia, dalla preistoria alla globalizzazione, mettendo in campo tecnologie all'avanguardia. L'Isis Majorana Fascitelli di Sernia, grazie anche al pieno sostegno da parte del Ministero dei Beni Culturali, ci è riuscito alla grande. Nei locali della storica sede del liceo classico è stato infatti inaugurato un museo completamente diverso rispetto a quelli tradizionali. Non ci sono reperti da mostrare. La protagonista assoluta è la realtà virtuale. Immagini e racconti curati dagli studenti permettono ai visitatori di compiere un viaggio sensoriale, di entrare a stretto contatto con la storia e personaggi che hanno dato lustro alla città. Nella sala preistorica, oltre ad alcuni video esplicativi, noi utilizziamo la realtà virtuale, cioè dei visori che ci permettono di entrare nell'habitat. Così che nella sala romana, per esempio, noi abbiamo immaginato di creare l'habitato così come era nella fase romana e lo vediamo nascere dinanzi ai nostri occhi attraverso una visione stereoscopica tridimensionale. Infine, il percorso si conclude con delle personalità di spicco della storia esernina. L'inaugurazione del percorso museale, destinato a diventare permanente, è l'atto conclusivo di un progetto che ha permesso di riportare il Fascitelli al centro della vita culturale della città, di rimetterlo al servizio della gente. Negli ultimi mesi sono stati proposti spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, seminari e lezioni che hanno permesso di mettere in luce o in alcuni casi di scoprire i tesori e i talenti custoditi in questa terra. Non era facile dare nuova vita a una struttura rimasta chiusa per anni. Questo progetto ha permesso di centrare in pieno l'obiettivo. Il MIBAC poneva proprio come obiettivo prioritario quello di valorizzare edifici scolastici di elevato valore storico, elevato valore artistico. Quindi questo era l'obiettivo privario. Per quanto ci riguarda noi abbiamo voluto riportare al centro dell'interesse della cultura del territorio sergnino, proprio il liceo classico, come è stato in passato, affinché potesse tornare ad essere un polo di interesse permanente. Credo che questo sia stato raggiunto, questo obiettivo, se si tiene conto del successo che hanno riscosso gli eventi che si sono snodati dal mese di ottobre. hanno potuto visionare come sia cambiata questa scuola nel corso degli anni, pur conservando intatte le peculiarità e le specificità di un tempo. Domani pomeriggio alle 17 al castello di Ripa Limosani, Domenico Dodaro, uno degli autori del libro I fantasmi dell'impero, vincitore del premio Selezione Bancarella 2018. Il libro riscrive in chiave di un giallo ambientato nel deserto la storia dell'impero. Riuscito Aururi, un progetto innovativo che punta sull'enogastronomia e lo sviluppo del territorio valorizzando le eccellenze locali. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione culturale Ergo Sum. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Promuovere il territorio attraverso l'enogastronomia valorizzando anche corretti stili di vita che mettono al centro la salute e la sostenibilità, ma anche strategie di coordinamento necessarie per favorire un discorso di rete tra gli operatori. Riusciti gli eventi organizzati al caffè letterario di Aururi dall'associazione culturale Ergo Sum. Due momenti tematici, il primo su salute e benessere, partendo dal frumento come produzione e trasformazione in un'alimentazione salutistica. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Aururi, Raffaele Primiani, Sebastiano Di Maria, Marco Tagliaferri e Dionisio Cofelice. L'altro momento è stato guidato dal docente e ambasciatore del gusto Doc Italy per il Molise, Maurizio Santilli. Lo chef ha interagito con professionalità attraverso un docufilm realizzato in collaborazione con il corso di enogastronomia e turismo dell'Università del Molise, dedicato alle eccellenze enogastronomiche regionali in un percorso nelle aziende produttrici denominato Saperi e Sapori. L'enogastronomia come veicolo di sviluppo turistico, laboratorio aperto a nuovi progetti. Un convegno, un corso che attraverso l'informazione e la cultura dell'enogastronomia si è concretizzato nella trasformazione delle materie prime in piatti finiti. La cultura del cibo, osservato Santilli, è la ricchezza di un territorio e può diventare con la giusta proiezione un'economia reale. Tanti sono le prerogative, tanti sono i progetti, tanti sono le intenzioni. Chiaramente come docente di enogastronomia e come ambasciatore italiano del gusto Doc Italy, rappresentante di Molise, mi sento con grande responsabilità di avere molta più attenzione a ciò che sul territorio avviene e nel modo in cui l'enogastronomia viene rivalutata. Così il Presidente dell'Associazione Ergo Sum, Antonio Occhionero. È stato tutto molto interessante e non posso dire altro che ringraziare tutti i relatori per aver condiviso il loro sapere e la grande competenza con la nostra comunità. Si è tenuto questa mattina a Campobasso il dodicesimo congresso regionale Associazione Medici Diabetologi dal titolo Il diabete mellito, l'amico silenzioso. Vediamo. Simonetta Di Vincenzo, Presidente dell'Associazione Medici Diabetologi del Molise, dodicesimo convegno sul diabete mellito definito nel titolo del convegno l'amico, tra virgolette, silenzioso. In che consiste questo convegno? Il titolo è stato studiato attentamente da tutto il direttivo dell'AMD proprio per sottolineare che la presenza di questa malattia cronica è estremamente insidiosa. Quindi è un compagno di viaggio che si comporta in realtà in maniera molto silenziosa creando grandi danni ma apparente amico senza segnali in realtà molto suddolo. Come si può ovviare? Perché amico lo avete messo tra virgolette quindi amico non è. Quindi quali danni può provocare questo diabete mellito all'organismo? I danni sono molteplici. In questo appunto congresso vengono sottolineati i danni di tipo cardiovascolare, i danni a livello renale, i danni a livello epatico che possono evolvere addirittura verso sviluppo di neoplasie. Quindi è una patologia estremamente insidiosa. Ecco la cosa positiva che abbiamo notato che al convegno ci sono tanti giovani che vengono istruiti su questo diabete mellito. Il diabete è anche una malattia con la quale a volte una persona può convivere per tantissimi anni. L'elemento fondamentale è la formazione sia del personale sanitario, medico ed infermieristico e soprattutto la prevenzione. Cercare di trasmettere nel sin dalla giovane età il concetto della corretta alimentazione e corretto stile di vita che sono gli elementi essenziali per cercare di evitare l'evoluzione di questa malattia. Sono un po' i consigli che si danno sempre che però non vengono quasi mai ai medico rispettati cioè appunto lo stile di vita che a volte è troppo sedentario e l'alimentazione che a volte eccede. Purtroppo questa è la cosa più complessa ma è il primo passo è la cosa più importante in assoluto più ancora a volte della terapia farmacologica. Sicuramente abbiamo lo sviluppo di farmaci estremamente innovativi che hanno permesso di rallentare notevolmente le evoluzioni delle complicanze ma far capire al paziente che avere una modifica dello stile di vita è il primo passo essenziale per riuscire ad ottenere un risultato ottimale e una qualità di vita esattamente sovrapponibile ad altre persone perché il problema del diabete qual è? E che purtroppo l'aspettativa di vita della persona con diabete viene ad essere fortemente condizionata dalla presenza di queste complicanze. E prima di salutarci alcuni appuntamenti si terrà oggi a Isernia la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso letterario anime vicine e lontane nel nostro patrimonio artistico promosso dai borghi della lettura. L'appuntamento è per le 18 alla libreria Enzo della Corte. Un corso di pronto soccorso e manovre di sostruzione delle vie aeree si terrà oggi alle 17 a San Giacomo degli Schiavoni nei locali dell'associazione unicamente vicino al campo sportivo. Bene, con questa notizia ci fermiamo e tutto. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo. Grazie dell'attenzione e buona fine settimana. Arrivederci. Grazie.